La polemica sulla legge di bilancio corre tra il sindaco Pierluigi Biondi e la deputata Demma Stefania Pezzopane. Ieri il primo cittadino ha annunciato il taglio di 3 milioni per il comune dell'Aquila con la riduzione da 10 a 7 dello stanziamento per compensare le minori entrate e le maggiori spese legate al sisma 2009. Biondi ha avuto parole durissime per l'onorevole Pezzopane. Intanto l'onorevole Pezzopane si occupa solamente di rivendere meriti non suoi in ordine a risultati importantissimi che stiamo conseguendo per questa città l'ha fatto sulla Scuola dei Vigili del Fuoco. Prova a farlo sul Servizio Civile Universale quando l'accordo e la lettera del Ministro Dadone sull'intesa con Regione e Comune è datata a fine settembre. Quello di cui non si accorge invece è che in legge di bilancio vengono tagliati 3 milioni di euro del contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila perpetuando il delitto che volevano compiere anche l'anno scorso con il benestare del PD. Noi abbiamo reagito, ci siamo ribellati a notte fonda appena è stato corretto l'emendamento. Io sono certo che verrà corretto questo errore. Funicello, il capo di gabinetto dei RAI, ha già dato la sua dimostrazione di disponibilità e insieme al Presidente della Regione stiamo predisponendo anche l'emendamento che ricostituirà questo fondo che serve per garantire servizi e qualità agli aquilani. La deputata risponde con una conferenza stampa sulla manovra di bilancio 2022 trasmessa alla Camera per la conversione con dati alla mano. Per le aree terremotate dice ci sono tante norme. C'è un apposito articolo, il 149, dedicato alle aree terremotate 2009-16-17 con per quest'ultima un rifinanziamento con il credito d'imposta che copre tutta la ricostruzione. C'è la proroga dello stato di emergenza per il centro Italia, si proroga la gestione straordinaria della ricostruzione post-sisma, c'è la proroga della dotazione di risorse umane a tempo determinato per gli uffici speciali. Per il 2009 c'è la proroga degli uffici speciali, viene inserita una norma che riguarda la proroga dei contratti a tempo determinato per il Comune dell'Aquila e degli altri del cratere. C'è inoltre la proroga per contratti a tempo determinato di lavoratori di società collegate, tutte cose inserite nel testo del Governo, compresi 7 milioni di euro per il Comune, per le minore entrate, le maggiori spese e tutta una serie di altre iniziative. Se c'è un taglio, spiega la DEM, è perché la ricostruzione è andata avanti. Noi siamo partiti da 30 milioni di euro nel 2011 per poi arrivare in decalage anno per anno a diminuire questo contributo. Il Sindaco dell'Aquila invece di prendersela con me spieghi alla struttura tecnica di missione che fa le valutazioni che evidentemente la ricostruzione è bloccata, perché se la ricostruzione è andata avanti c'è un decalage, se la ricostruzione è bloccata bisogna incrementare questo fondo di 7 milioni. La cosa assurda, e mi viene veramente da ridere, del comportamento di Biondi è che quando succedono le cose buone il Governo è buono ma è la parte di destra, quando c'è qualcosa che non gli va bene è colpa della pezzopane.